E' terminato l'incontro, la finale degli esordienti tra la Virtus Lanciano con la media bianca e il Real Tuscolano, ha vinto il Real Tuscolano. Adesso c'è la prima azione, abbiamo qua lo speaker ufficiale Francesco, il delegato allo sport, il signor D'Angelo Antonello. Allora, il capitano della Virtus Lanciano, insieme, se può venire qua. Abbiamo il signor Scarinici. Dai, uno di voi, dai, venite qua. Ecco. Adesso procediamo alla prima azione. Davo su, qua fuori applauso signori, su, è una festa! Come ti chiami? Sei divertito almeno? Sì. Allora, premia il consigliere comunale Antonello D'Angelo del comune di Castelfrentano e la seconda e classificata per il terzo memorial Massimo Scarinici, Virtus Lanciano! Grosso applauso a questi grandi campioni! Bravi, bravi, ragazzi! Grazie.